Buongiorno, sono Franca Paglino. Io e Luciano Marchino saremo i docenti del seminario intensivo Crescere, apprendere, divenire, introduzione alla lettura dinamica del corpo, che si svolgerà a Milano nel corso di tre weekend consecutivi in ottobre, novembre e dicembre. Perché partecipare a questo seminario? Prima di tutto perché la psicologia somatica e la bioenergetica in particolare offrono strumenti che consentono di arrivare al nocciolo delle tematiche emotive senza passare attraverso il filtro del linguaggio verbale. Chi si occupa di relazioni di aiuto potrà integrare l'approccio corporeo nella propria pratica professionale, rendendola più efficace, ricca e articolata. Inoltre, il metodo esperienziale, che è parte integrante del DNA di Ipso, rende l'apprendimento un valore in sé, una tappa del proprio percorso di crescita personale. Infine, la partecipazione al seminario dà diritto a 48 crediti formativi, validi ai fini dell'aggiornamento permanente previsto da Asso Counseling e sono stati richiesti 50 crediti ECM per tutte le professioni sanitarie. Vi aspettiamo!